La scuola I Girasoli si trova in strada Budellungo 43-A. È composta da tre sezioni di scuola dell'infanzia e tre sezioni di nido. La struttura è aperta dalle 7.30 alle 16.00. È previsto un tempo prolungato per chi ne fa richiesta, che si estende fino alle ore 18.00. La scuola I Girasoli si trova in strada. La nostra struttura offre una biblioteca frequentata quotidianamente dai bambini, ma è anche organizzata per permettere alle famiglie il prestito dei libri. È presente anche un atelier, sempre a disposizione dei bambini, in cui essi possono sperimentare con materiali di recupero e svolgere attività strutturate e non. La struttura è dotata di cucina interna, che fornisce giornalmente frutta, pranzo e merenda, seguendo un menu ASL. Le tre sezioni di nido sono composte da bambini di età mista, dai 10 mesi fino ai 3 anni. All'interno di ogni sezione sono presenti 21 bambini con tre educatrici e un'operatrice, che accompagnano i bambini nell'arco della giornata. Nella fascia oraria del tempo prolungato è prevista un'educatrice che si occupa di questo momento. Nella fascia oraria del tempo prolungato è un'educatrice che si occupa di questo momento in cui è possibile lavorare anche in intersezione. Lavoriamo sempre partendo dal presupposto che la conoscenza dei bambini non procede linearmente, che è un processo che si realizza principalmente nell'incontro con l'altro e che ogni bambino porta teorie, valori, significati e tempi che orientano i suoi personali processi di conoscenza. Io sono quello che sono, in virtù degli incontri che faccio, nei luoghi che abito, negli oggetti che posso avere tra le mani, nel modo con cui entro in relazione con gli altri e con il mondo, nelle risposte che ricevo alle domande, nell'accoglienza che sperimento e nei sorrisi che sostegno i miei tentativi e i miei errori, nelle opportunità di collaborare e cooperare insieme. Perché noi bambini e adulti ci definiamo in relazione con gli altri, solo se possiamo vivere le medesime opportunità e ricevere la stessa accoglienza e gli stessi sguardi benevoli. È l'unica possibilità che abbiamo per poter essere ciascuno e tutti.